90 minuti, a te. Grazie Enrico, allora noi proseguiamo con l'appuntamento di ogni lunedì con il gol più bello della Lega Pro secondo Rai Sport. Abbiamo selezionato in questo caso il gol di Infantino, guardate che splendida rovesciata con la quale l'attaccante dell'Aquila ha contribuito al successo esterno degli abruzzesi in casa del Fondi. La rivediamo, eccola qui, la rovesciata dal centro area di Infantino.